Loro che ci vengono a raccontare e portare in giro per l'Italia l'esperienza della camminata sportiva che noi oggi andiamo a tenere, lasciamo a noi la voce e come vedete che con loro striscione su un portatore di baldezza si preparano ad andare a percorrere il loro bracciato in questa camminata sportiva che loro praticano quotidianamente e in giro per l'Italia con insieme a Roberto vengono a promuovere questa nuova disciplina che anche la federazione oramai è fatta propria e quindi è il parco giusto oggi che siamo in un contesto così internazionale ad andare continuamente a integrare in questo contesto di gara siamo oramai a 17 minuti dalla partenza della pezza Maradona a 11 minuti dalla partenza della ventina Maradona e infatti anche la passeggiata e mi conti speranze di Palagiano ragazzi, buon meravigliamento a voi da Palagiano a Sorrento e amici di Palagiano, buona passeggiata grazie a tutti grazie a tutti